Siamo in compagnia di Nino Di Maio, presidente del progetto Famiglia di Sorrento Castellammare e membro direttivo del forum Associazione Famiglia. Qui è stata aperta una biblioteca per i ragazzi, da dove è nata l'idea? L'idea è nata dall'ascoltare le esigenze dei nostri ragazzi, perché molti ragazzi ci raccontavano che erano costretti a recarsi o a Piano di Sorrento, o a Meta, o a Gragnano, poiché qui a Castellammare non avevano un'opportunità di avere un luogo dove potersi fermare e studiare in modo sereno e tranquillo. Quindi da questo ascolto è nata poi l'esigenza di aprire quest'aula studio che abbiamo inaugurato da una settimana e che farà, già sta avendo un buon successo, a dire il vero, e quindi siamo molto contenti di questa prima settimana di rotaggio, se la possiamo chiamare così. Quindi siamo in attesa adesso poi di continuare questa nostra iniziativa proprio con il sostegno dei ragazzi e di tanti volontari che si vogliono mettere in gioco. Com'è nata questa idea? Com'è stata possibile realizzarla? È stata possibile realizzarla proprio grazie ai giovani. Noi abbiamo coinvolto un po' di giovani che avevano l'esigenza, come dicevo prima, di avere un luogo dove poter studiare e proprio coinvolgendoli piano piano siamo riusciti ad aprire la struttura che sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19 di sera. Quindi faremo un orario continuato proprio per dare l'opportunità ai ragazzi di avere un luogo sereno, tranquillo, dove possono in modo confortibile studiare per preparare poi i propri esami, perché riteniamo che la cultura sia un elemento essenziale, specialmente nella nostra città e specialmente in questo rione che è un rione un po' abbandonato a se stesso. I ragazzi avranno anche del materiale a disposizione come libri? Come potete ben vedere c'è una grande ricchezza di libri qui. Possono trovare libri di qualsiasi genere e contenuto, dai romanzi, ma anche enciclopedie di valore, libri dedicati ai temi della giurisprudenza, della medicina, quindi c'è un po' di tutto. Ci sono circa mille libri in questo momento, quindi abbiamo opportunità di dare delle risposte a quella che è la curiosità dei ragazzi e per sostenerti poi nello studio, perché riteniamo che questo sia un elemento essenziale. Ecco, questo è un progetto che è appena partito, ma può avere continuità e può garantire questo servizio a lungo per questi ragazzi? Ci stiamo provando. Io credo molto che i ragazzi hanno e vedo in loro la voglia di mettersi in gioco, quindi credo che i ragazzi oggi bisogna dargli tanta fiducia. Io credo che loro sono il nostro futuro e quindi dobbiamo sostenerli, incoraggiarli e far sì che possano veramente trovare, avere delle opportunità di stare sireni e di trovare qui un luogo accogliente dove potersi fermare per studiare. In questa iniziativa sono impegnati anche i ragazzi con turni? Come si stanno organizzando e in quanti sono? Allora, ci siamo organizzati in questo modo qua. Per ogni turno, il primo turno va dalle 9 alle 14 e il secondo dalle 14 alle 19, ci sono almeno due ragazzi che si sono presi il compito di avere loro in gestione la struttura, che è una struttura messa a disposizione dal clero di Castellammare, quindi è una struttura che è stata rifatta, come voi potete ben vedere, nuova, una struttura totalmente nuova, che è stata rifatta e che gestiranno in questo modo qua i ragazzi con una turnazione e speriamo che altri ragazzi si possano aggregare per darci una mano e faremo in modo di renderla sempre di più confortevole per rispondere poi alle loro esigenze. Perfetto, grazie mille. Grazie a tutti.